E, sempre stata un'icona dell'eleganza femminile, ma il look scelto per il ritorno dall'ex marito Albano stata una sorpresa per tutti i suoi fan. Romina Power non si scompone e sceglie una mise che non passa inosservata. E questo nuovo importante appuntamento non era assolutamente immaginabile, ed proprio per questo che ha suscitato reazioni contrastanti. Romina, una donna da mille volti. Figlia dei celebri attori americani Tyron Power e Linda Crystal, Romina ha alle spalle una carriera quarantennale che l'ha portata a toccare molti ambiti diversi del mondo della musica e dello spettacolo. Insieme al marito prima, e da solista poi, non ha mai smesso di rendere fieri i tanti che la seguono da ogni parte del mondo. La Power Pera ha quadrato non solamente una cantante, la sua carriera ha abbracciato anche il cinema e la recitazione, oltre a vederla indossare i panni della conduttrice televisiva. Il fatto che una professionista esemplare come lei è stata in grado di rinnovarsi continuamente senza cedere al fascino suddolo del revai va al fine a se stesso. Vedi anche trattino maggiore. Stavolta Pera ha quadrato la metamorfosi stata totale, un abbigliamento che nessuno avrebbe potuto sospettare e che ha mostrato un lato conosciuto di Romina. Basta guardare la fotografia postata sul canale Instagram ufficiale, mascherina, felpa e valigia sono di quelle che non si dimenticano. Per quale motivo sia arrivato per lei questo cambiamento difficile capirlo davvero, anche se i follower alla fine sognano sempre quel gran ritorno.